E dopo la grande accoglienza riservata a uno dei miei ultimi video caricati, la recensione di Licorispizza, partiamo subito dal titolo di quest'ultimo mio video. Dovevate nominarlo in tutto e invece Pablo Larraina è stato ingiustamente scartato agli Oscar di quest'anno. Visionato in anteprima Dubai a metà novembre, ho aspettato che Spencer uscisse da noi con una tardiva distribuzione italiana, ora vi racconto della mia esperienza in sala. Ad un primo attrito, un azzardo bello e buono, un film che voleva correre molti rischi per via di un materiale spinoso, delicato, difficile da condensare in sole due ore. L'EDD è un simbolo, un modello di comportamento moderato che credo proprio che non esista più. È un lontano faro appena visibile di stile, grazia, portamento. Un aspetto questo che viene scandagliato da Pablo Larraina in questo film che si discosta dal semplice biopic. Ed ecco la genialità del prodotto. Il biopic è lo specchietto per la lodole e il racconto favolistico a tinte horror prende il sopravvento. Non si vuole descrivere accuratamente le vicende tenendo conto di una scala temporale ordinata. Non c'è neanche il bisogno di avere didascalie lavorate o voci fuori campo che disturbino la quiete dello spazio mentale della nostra protagonista. Qui c'è una vera e propria visione d'insieme, personale e personalizzata. Un Larraina che entra a gamba tesa in quello spazio tanto prezioso per provare a tendere la mano a Diana Spencer. E ecco che spunta fuori il cognome in bella vista, Spencer, dal titolo. Come mai applicare questa scelta? Perché arriviamo a un punto di incontro fra fruitore, al di là dello schermo, e fruitrice attiva che giudica silenziosamente la sua condizione di prigionia. Una ricostruzione immaginaria della sua decisione di divorziare, sia contifatti che simbolicamente parlando, dal principe Carlo. Siamo nel dicembre del 1991 e trascorriamo tre giorni di una vacanza di Natale che non celebra nulla se non la decadenza di una vittima del chiacchiericcio, dei pregiudizi ancora pomposi che la sovrastano. Ci sono regole implementate per contenere la persona che è in lei, ci sono modi di atteggiarsi da adottare per fare la solita bella figura in pubblico, poi esternare una profonda gratitudine quando questa è stata strappata via dal suo corpo, già da tempo, e Larraín non perde tempo a spogliarla delicatamente, prima dei suoi accessori e poi dei suoi vestiti preparati per l'occasione. Smonta dunque la figura di facciata per arrivare al cuore della storia. Il suo istinto materno che sopravvive di fronte alle avversità. Diana si trova nella tenuta della regina, Sandringham, un'immensa proprietà che regala squarci, inquadrature spesso abbacinanti, con interni di mirabile bellezza e occasioni di aprire il fuoco e l'obiettivo per non lasciarsi scappare nulla. E anche in questo caso, come nella trattazione della natura del film, Larraín prende la direzione opposta, si oppone all'estetica da valorizzare per focalizzarsi piuttosto sullo spaesamento crescente di Diana. Armatevi di grande schermo, ragazzi, perché questa operazione è sì intimista, ma anche molto dettagliata a livello visivo, con una grana di pellicola soffice candida che vorrebbe accarezzare il viso di Diana, ma anche scuoterla e trascinarla al di fuori della residenza di campagna. Poi ho ascoltato varie interviste e durante le interviste il regista espone il suo approccio dicendo che ci deve essere una sorta di scambio sfrenato, di scambio aperto e intimo con il pubblico. E' stato così sorprendente per le persone che erano abituate a una sorta di volto diverso dalla famiglia reale. Ho sempre poi puntato allora su sguardi penetranti, ho voluto includere un'interpretazione sofferta e ho sempre avuto una curiosità crescente nei suoi confronti. Ed ecco che la curiosità diventa il motore della storia, ma senza soverchiare la sua figura primaria, cosa pensa e come riesce a isolarsi e a pensare Diana quando non ha gli occhi puntati addosso e nessuno la può sentire. Ecco il punto fondamentale e l'impianto favolistico e uno stile di narrazione fuori dal tempo brilla proprio in queste dinamiche, in una sezione temporale in cui era impossibile per lei rimanere troppo in disparte e prendere posto e parola, ma la voce può essere udita, finalmente, anche dalla stessa Kristen Stewart, dall'interprete che la sta vestendo. Un'attrice giudicata molte volte, che è stata vittima di gossip pressanti e infondati, con un destino che per lei sembrava segnato dalla saga di Twilight. Eppure lei si è retta sulle proprie gambe, ha incassato colpi, ha delineato una strada profittevole in termini di carriera e film selezionati. Una riunione, secondo me, clamorosa, quella fra una Stewart completamente in parte e la figura da ricoprire. Si supera veramente il concetto base del biopic, la sua struttura, perché qui interpretare Diana vuol dire liberarsi di certi fardelli e di aspettative che soffocano. Vuol dire stendere le braccia, sentire l'aria che ti sfiora il volto senza più rimanere toccati dai giudizi. Poi anche sentire la terra sotto i piedi, per rimanere in una dimensione appunto terrena senza rendere conto a nessuno di come devi essere o devi apparire. Vuol dire ancorarsi ad una famiglia che può rimanere ancora compatta, grazie all'amore feroce di Diana verso i suoi figli. Pablo Larraín di fatti stabilisce il suo perimetro, non può essere valicato, è un'occupazione ferma e decisa di un'abitazione che deve essere scoperchiata, per renderla una farsa a tutti gli effetti. Intanto lui sviluppa la sua idea di dramma storico, una immaginazione interiore davvero poetica di come sarebbe potuto sembrare il cammino di Lady Di, piuttosto che distribuire informazioni sommarie. I colori qua poi sono sferzanti, i vestiti che indossa Diana sono sì, lussureggianti, ma oscurano lo sfondo che la dovrebbe contenere. Poi ci sono le perle, questo dettaglio, le perle che circondano il suo collo, che si trasformano in catene che devono ridursi in frantumi. Ogni dettaglio, anche la soundtrack dell'ormai fidatissimo Johnny Greenwood, direttamente da Licorispizza, è inserito per affrontare un tormento interiore che, con il passare dei minuti, muta forma e diventa una liberazione totalizzante. Doveva meritare maggiore riconoscimento, ma abbiamo solo la prova attoriale della Stuart, attrice protagonista, nomination, che spicca in quel di Hollywood. Poco male, perché ci pensiamo noi a elevarlo e tenerlo in seria considerazione. Abbiamo tre giorni della sua vita trasposti nella versione di Larraín, ma tu, spettatore, sei comunque in grado di entrare in una prospettiva ancora più ampia, anche se conosciamo già il suo destino e cosa le è successo. L'importante qui è stare il più possibile accanto a lei, quando ha veramente bisogno di esprimersi e capire chi vuole essere. Per questo non posso che premiare il film già piazzato nella classifica del 2021. Qui Antonio Cianci, il raccata film ha finito con la recensione di Spencer, fatemi sapere se avete intenzione di recuperarlo e lasciate un commento qui sotto. A fine visione, vi aspetto. Un saluto, carissimi seguaci del raccata film, ciao, alla prossima!